È arrivata una rivoluzione intelligente. Dal 1 gennaio, la fattura è diventata elettronica e sostituisce definitivamente quella cartacea. È gestita online tramite sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Elimina i costi di stampa, spedizione e conservazione. Contrasta le frodi ed è semplice, grazie all'app Fattura.e e ai servizi web dell'Agenzia. È interessato chiunque metta fattura, tranne i piccoli contribuenti. Mentre per i cittadini non cambia nulla. Agenziaentrate.gov.it Grazie a tutti.